Serrata movimentata in città, tre le rapine in meno di un'ora. In via Palermo è stata presa di mira una rivendita di tabacchi. Due le persone che armate col volto coperto hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale e dopo aver minacciato il titolare con una pistola sono fuggite con il bottino a bordo di un motorino. Rapinatori in azione anche in una cartoleria di Camaro nel centro scommesse Gold Bet di Viale San Martino. Al lavoro gli agenti della squadra mobile e i carabinieri della compagnia Messina Centro. Diversi testimoni ascoltati nelle ultime ore dagli investigatori per ricostruire le dinamiche e provare ad individuare gli autori. Acquisite le immagini di video sorveglianza, presto potrebbero esserci sviluppi.